in questo numero del salus tg l'esperto l'asma allergica un problema grave sempre meglio controllabile responsabilità dei medici ha colto l'emendamento sulla mediazione lo studio effetto io io colpa anche dei batteri dell'intestino le allergie un problema sempre più diffuso che hanno in disturbi respiratori come l'asma bronchiale allergica una delle conseguenze più gravi si tratta di una patologia cronica capace di incidere negativamente sulla qualità di vita delle persone che ne soffrono ma che può essere controllata nella maggior parte dei casi molto importante da ricordare che adesso ci sono dei nuovi farmaci già disponibili già disponibili ad esempio un inibitore delle anti igie oppure dei farmaci che stanno uscendo questi sono dei farmaci molto molto importanti perché delle popolazioni ben selezionate di pazienti allergici che hanno un aumento delle igie ad esempio o vedremo i criteri delle nuove dei nuovi farmaci e tendono a migliorare la qualità di vita di questi pazienti ridurre la sintomatologia e soprattutto ridurre quello che è il farmaco principale per l'asma ovvero il corticosteroide inalatorio modifica le norme sulla responsabilità professionale all'esame dell'aula del senato è stato accolto dal governo un emendamento che riscrive l'articolo 8 comma 2 del disegno di legge sul rischio clinico prevedendo la possibilità per il paziente di scegliere lo strumento della mediazione in alternativa alla causa diete lunghe faticose per perdere peso e dopo un felice ma breve periodo di magrezza i chili di troppo tornano ad accumularsi l'effetto io io sperimentato da molte persone obese dopo una dieta sarebbe colpa anche dei batteri che abitano nel loro intestino il microbioma degli obesi a dieta è caratterizzato infatti da una scarsa diversità e questo incide sui risultati a lungo termine dei regimi dimagranti e quanto emerge da un nuovo studio presentato al congresso europeo di endocrinologia a monaco in germania